Siamo con l'azienda vinicola Buzinelle, si pronuncia giusto? Dove si trova? A Plessiva, abbiamo anche il ristorante di pesce e anche potete provare i vini che li facciamo sull'azienda. Quindi avete vino e cibo. Di vini cosa avete portato? Qua abbiamo per assaggiare i vini bianchi, abbiamo ribolla e uvaggio e poi un spumante che si chiama Carlo. Carlo, il nome? Carlo? Nome di mio bisno. Carlo ha preso, abbiamo avuto una notte delle bollicine in Portorose e abbiamo preso un premio per Carlo e anche le notte delle bollicine in Udine. Che vinificazione ha utilizzato per il prodotto? Abbiamo Carlo che è il metodo classico, 36 mesi sui lieviti e poi facciamo la sboccatura e poi aspetta ancora un, due, tre mesi e poi lo cominciamo a vendere. Da mangiare, cosa avete portato? Allora, abbiamo fatto carpaccio di branzino e insalata di mare. Slovenia, carpaccio di branzino e pesce a spada, bravi, è tutto fresco e preciso, molto bene. Ci sono anche le bollicine, no? Ci è, perfetto.